Annabeth! Distruggeteli! Annabeth aveva sentito quelle parole così spesso che ottennero un risultato. Si riscosse dalla paralisi. Sollevò la spada e gridò, Percy! Lui afferrò vortice. Annabeth si fiondò sulle catene che legavano le porte della morte. In un colpo solo, la lama d'osso di Dragone tagliò i cavi di sinistra. Nel frattempo, Percy respinse la prima ondata di mostri. Pugnalò una delle araie e strillò «Bah! Stupide maledizioni!» Poi abbatté una mezza decina di telchini. Annabeth si lanciò alle sue spalle e tagliò le catene sull'altro lato. Le porte furono scosse da un fremito. Uno squillante Ding ne annunciò l'apertura. Bob e la fedele amica dai denti a sciabola continuavano a infilarsi fra le gambe di Tartaro, attaccandolo e schivando le sue artigliate. Non facevano molti danni, ma il dio vacillava, poco abituato com'era a combattere in un corpo umanoide. Menava colpi a destra e a manca, senza però andare mai a segno. Altri mostri si riversarono a fiotti verso il portale. Una lancia volò sopra la testa di Annabeth. Lei si girò, pugnalò un'impusa allo stomaco e si tuffò verso le porte che cominciavano a chiudersi. Le tenne aperte con un piede, continuando però a combattere. Dando la schiena all'ascensore, perlomeno non doveva preoccuparsi degli attacchi alle spalle. «Persi, vieni!» gridò. Lui la raggiunse sulla soglia, con la faccia grondante di sudore, il sangue che gli colava da diversi tagli. «Stai bene?» gli domandò Annabeth. Persi annui. «Mi sono beccato una maledizione piuttosto dolorosa da quella, Rai!» Fece a pezzi un grifone per aria. «Mi fa male, ma non mi ucciderà! Entra nell'ascensore! Terrò io il pulsante premuto!» «Sì, come no!» Con l'impugnatura della spada, Annabeth colpì sul muso un cavallo carnivoro, rispedendolo in mezzo alla ressa. «L'hai promesso, testa d'alghe! Non ci saremmo più separati, mai più! Sei impossibile! Diamo anch'io!» Un'intera falange di ciclopi si lanciò all'attacco, togliendo di mezzo i mostri minori. Annabeth pensò di essere sul punto di morire. «Dovevano per forza essere i ciclopi!» mormorò. Persi lanciò un grido di battaglia e affondò la spada nel terreno. Ai piedi dei ciclopi si aprì una vena che spruzzò sui mostri il fuoco liquido del flegetonte. L'acqua di fuoco curava i mortali, ma i ciclopi non faceva mica tanto bene. rimasero inceneriti dall'ondata di calore. Quando la vena si richiuse, dei mostri rimase solamente una fila di bruciature per terra. «Annabeth, devi andare!» ordinò Persi. «Non possiamo rimanere qui tutti e due!» «No!» gridò lei. «Giù!» Persi si chinò, mentre Annabeth lo superava con un salto e abbatteva la spada sulla testa di un orco pieno di tatuaggi. I semidei erano spalla a spalla sulla soglia dell'ascensore, in attesa della successiva ondata nemica. L'esplosione della vena aveva fatto esitare i mostri, ma non ci avrebbero messo molto a ricordarsi che... «Ehi, un attimo! Noi siamo 75 fantastiliardi e loro soltanto due!» «Allora hai un'idea migliore!» chiese Persi. Annabeth avrebbe tanto voluto averla. Le porte della morte, unica via d'uscita da quel mondo di incubo, erano alle loro spalle. Ma non potevano usarle senza che qualcuno controllasse i comandi per dodici lunghi minuti. «Se fossero entrati nell'ascensore e avessero lasciato chiudere le porte senza che qualcuno tenesse premuto il pulsante, i risultati non sarebbero stati molto salutari», si disse Annabeth. «Se invece, per un qualsiasi motivo, si fossero allontanati dalle porte, l'ascensore probabilmente si sarebbe chiuso e sarebbe scomparso senza di loro. Era una situazione così disperata da risultare quasi ridicola. La moltitudine di mostri avanzava lentamente, ringhiando e prendendo coraggio. Nel frattempo, gli attacchi di Bob si erano fatti più deboli. Tartaro stava imparando a controllare il proprio nuovo corpo. Bobbino dai denti a sciabola si lanciò contro il dio, che lo scaraventò via con un ceffone. Bob tornò alla carica, mughiando di rabbia, ma Tartaro gli strappò la lancia dalle mani e con un calcio lo gettò a terra, rovesciando come birilli una fila di telchini. «Arrenditi!» fu no Tartaro. «No!» replicò Bob. «Tu non sei il mio padrone!» «Muori da ribelle, allora!» disse il dio dell'abisso. «Voi titani non siete nulla per me! I giganti, i miei figli, sono sempre stati migliori, più forti e malvagi!» «Renderanno il mondo dei mortali!» «Cupo e tetro come il mio regno!» Tartaro spezzò la lancia in due. Bob gemette, ferito. Bobbino balzò in suo aiuto, ruggendo contro il dio e mostrando i denti a sciabola. Il titano cercò di alzarsi, ma Annabeth capì che era finita. Perfino i mostri si girarono a guardare, come se percepissero che il loro padrone stava per conquistare la ribalta. La morte di un titano era uno spettacolo a cui valeva la pena assistere. Percy afferrò la mano di Annabeth. «Tu resta qui! Devo aiutarlo!» «Persi, fermati!» disse lei. «Non si può lottare contro Tartaro! Noi non possiamo!» Annabeth sapeva di avere ragione. Tartaro faceva parte di una categoria a sé stante. Era più potente degli dei e dei titani. i semidei non valevano niente per lui. Se Percy fosse andato all'attacco per aiutare Bob, sarebbe stato schiacciato come una formica. Ma sapeva pure che Percy non l'avrebbe ascoltata. Non avrebbe mai permesso che Bob morisse da solo. Non era da lui e quello era uno dei tanti motivi per cui lo amava, anche se era un rompiscatole di proporzioni olimpiche. «Andremo insieme!» decise Annabeth, sapendo che sarebbe stata la loro ultima battaglia. Se si fossero allontanati dalle porte della morte, non avrebbero mai abbandonato il Tartaro. Ma almeno sarebbero morti combattendo fianco a fianco. Stava per dire «Adesso!» All'improvviso, un fremito di paura attraversò l'esercito. In lontananza, Annabeth udistrepiti, urla e un costante «boom-boom-boom» che era troppo rapido per essere il battito del cuore nel terreno. Sembrava più una creatura grande e grossa che correva a tutta velocità. Diversi figli della Terra vorticarono per aria come se fossero stati scagliati via. Un pennacchio di gas verde brillante si levò a ondate sopra l'orda dei mostri, come spray velenoso sparato da un idrante. Tutto quello che incontrò sul suo cammino si dissolse. oltre la zona di terreno sfrigolante e vuoto che si era appena formata, Annabeth vide la causa di tutto quel trambusto e cominciò a sorridere. Il dragone meoniano dischiuse il collare membranoso e similò, diffondendo con il suo alito velenoso un profumo di pino e zenzero sul campo di battaglia. Era lungo una trentina di metri e quando si mosse agitando la coda screziata di verde, spazzò via un intero battaglione di orchi. Sulla sua groppa c'era un gigante rosso con i fiori intrecciati ai capelli color ruggine, un farsetto di pelle verde e una lancia di costola di dragone in mano. Damaseno! gridò Annabeth. Il gigante abbassò la testa in segno di saluto. Annabeth Chase, ho seguito il tuo consiglio. Mi sono scelto un nuovo destino.